Matematica Scusa se ti disturbo mentre stai studiando Che ti succede? Non parli più, eh? C'è qualcosa che non va, fratellino? No, niente Allora, che cos'è che non capisci? Masturbazione di secondo grado Beh, questo è un altro passo verso la cattura del colpevole Bentornato a casa Bastardo Quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? L'umano il cui nome sarà scritto su questo guaderno Morirà Presidente Presidente Chievi Sì